Ad ottobre 2021 ha preso il via la nuova edizione del censimento permanente della popolazione delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale, non più decennale, che coinvolge solo un campione di famiglie selezionato dall'Istat. Aderire è un obbligo di legge, ma anche un'importante opportunità. Il Comune di Sansevero dunque invita i cittadini ad essere collaborativi e informa che ci sarà un rilevatore incaricato dal Comune, che potrà fornire spiegazioni sul censimento, fare un'intervista per compilare insieme il questionario online o indicare il centro comunale di rilevazione dove recarsi per ricevere l'intervista da parte di un operatore. Il numero verde Istat a disposizione è 800 188 802, oppure c'è il centro comunale di rilevazione presso l'ufficio elettorale del Comune di Sansevero per tutte le informazioni necessarie.